Nel momento in cui stavi per entrare in campo ti ho detto entra, fai gol e vieni ad abbracciarci in panchina. Non erano passati nemmeno 120 secondi e avevi già messo la palla all'angolino. T'ho preso la lettera, nel senso, no? Me l'hai detto, sono entrato, ho preso punizione e ho fatto gol. Più di due sì, potevo riuscire. No, vabbè, sono molto contento, ecco, un gol importante, abbiamo vinto, siamo andati a più sette, quindi era l'obiettivo che ci eravamo posti oggi, quindi siamo riusciti a portare via tre punti e siamo molto contenti. Ecco, sei arrivato a gennaio, hai segnato due gol pesanti, a parte sono tre i gol che hai realizzato, però due, uno a Castelnuovo e quello di oggi sono i gol più pesanti. Stai lavorando, sei messo a servizio soprattutto della squadra, hai arrivato, hai davanti Brega Granito, due attaccanti importanti, però come entri riesci a regalare prestazioni importanti. Sì, sono contento di essere stato importante in queste ispezioni di partita e comunque sia, ripeto, come hai detto te, c'ho Brega Granito davanti, sono gli attaccanti più forti di questo girone e credo che anche le categorie superiori farebbero paura a tante squadre. Quindi, niente, io sono qua per dare una mano, ho spostato il progetto che c'è che il presidente Donati mi aveva posto, sono al servizio della squadra e quando il mister mi chiama io spero di essere sempre pronto e di dare il massimo. Ecco, cos'hai provato? Al 2-1 un boato, una bolgia incredibile. È stato molto bello, è stato molto bello, ma credo che è stato bello anche quando pareggiai a Castelnuovo. Insomma, come hai detto te Marco, ho fatto due gol, diciamo, sono fortunato di aver fatto due gol importanti e sono molto felice di questo perché, insomma, questo era l'obiettivo che mi avevo posto prima di venire qua. Credo in questo momento di star bene, di portare dei punti importanti alla mia squadra, quindi questo era l'obiettivo e sono molto felice. Ora, domani subito di nuovo in campo e poi c'è mercoledì una finale importantissima a Firenze. Certo, per noi è un obiettivo importante pari al campionato, quindi ora ci godiamo stasera la festa della vittoria e poi da domani con la testa alla Bucinese per pensare di vincere la Coppa Toscana che ci interessa e poi andare avanti.